Musica Travolto sulle strisce pedonali in via Flaminia a Pesaro, muore un disabile di 62 anni. E' stata ritrovata viva in ipotermia in mezzo a un canneto, la ragazza di 27 anni scomparsa la notte scorsa, impiegati per le ricerche, vigili del fuoco, forze dell'ordine e un elicottero arrivato da Arezzo. E' morto a 92 anni il frate Agostiniano Filippo Cespuglio, venerdì i funerali nella chiesa di San Giuseppe al Porto a Fano. Altra impennata di ricoveri nelle marche Boom di Contagi, sospesa alcune attività programmate per poter adibire medici, anestesisti e infermieri alle terapie intensive e semi-intensive. Imbrattati i muri della scuola media Giacomo Leopardi a terre roveresche, indignati i sindaci che condannano l'atto vandalico, è stato offeso il simbolo del sapere causati danni economici, ora indagano i carabinieri. Crollo del fatturato e piccoli negozi a rischio chiusura, l'allarme di Confcommercio e Federalberghi che chiedono ristori adeguati e la proroga delle moratorie per mutui finanziamenti. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il tragico incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Flaminia Pesaro dove è morto Antonio Cetta, un disabile di 62 anni travolto da una jeep sulle strisce pedonali. L'uomo molto noto in città è deceduto poco dopo l'impatto, era a bordo di una carrozzina elettrica quando ha attraversato la strada all'altezza del negozio Fidomania. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. Sul posto la polizia di Stato, i vigili urbani, un carattrezzi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti. E sono state ore di apprensione per una giovane mamma scomparsa nella notte e ritrovata oggi pomeriggio a Candelara nel comune di Pesaro. La ragazza infreddolita e in stato confusionale è stata affidata alle cure dei sanitari, tutti particolari nel servizio di Angelica Panzieri. Prima la paura, poi il lieto fine. La ragazza di 27 anni, scomparsa questa notte a Santa Maria dell'Arzilla, è stata ritrovata viva. Era adagiata a terra in mezzo ad un cannetto, supina in ipotermia, a qualche centinaio di metri dal bivio del trebbio di Candelara, in prossimità della strada provinciale 32. Dunque a due chilometri dall'auto, un'utilitaria Ford che aveva abbandonato nella notte. A ritrovarla sono stati vigili del fuoco, grazie anche ai loro cani cinofili. Nel frattempo, da questa mattina all'alba erano state mobilitate decine di uomini e un elicottero dei vigili del fuoco, arrivato da Arezzo. Le ricerche delle forze dell'ordine, assieme a quelle dei pompieri, sono proseguite senza sosta, fin quando intorno alle 14.30 la ragazza è stata ritrovata. Il motivo che l'ha spinta a finire in quel luogo è ancora da accertare, ma la giovane, essendo stata trovata in stato confusionale, è stata portata in ospedale. E oggi è tornato alla casa del padre, il frate Agostiniano Filippo Cespuglio. I funerali si terranno venerdì a Fano, nella chiesa di San Giuseppe al Porto. E' morto all'età di 92 anni padre Filippo Cespuglio, frate Agostiniano, che si trovava in cura nella residenza sanitaria Casa Argento a Fossombrone. La diocesi oggi ha ricordato la storia di padre Filippo, che fu battezzato in fretta da don Alfredo Campolucci, perché in pericolo di morte. Aver superato questo grave momento fu da lui attribuito alla Madonna delle Grazie venerata Saltara, di famiglia numerosa, decise di entrare nel convento degli Agostiniani a Cartoceto in qualità di fratello converso. Poi nel 1970 colse l'invito a recarsi missionario in Peru, dove restò per dieci anni, frequentando il seminario di Cusco e ricevendo l'ordinazione presbiterale il 26 aprile 1978. Rientrato in Italia per motivi di salute, svolse il suo ministero nella comunità di Tolentino, Pesaro e Fano. Molto amato per la sua umanità e il suo carattere mite e buono, padre Filippo ha sempre aiutato tutti con generosità. Le eseque, presedute dal vescovo Armando Trasarti, saranno celebrate venerdì alle ore 10 nella parrocchia di San Giuseppe al Porto. Anche domani invece rimarrà allestita la Camera Ardente nel convento Agostiniano a Tiguala Chiesa. La salma verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Saltara. E adesso ci spostiamo a Orciano di Terre Roveresche, dove i vandali hanno imbrattato i muri della scuola media, un gesto condannato dai sindaci ma anche dall'intera comunità. Il servizio di Filippo Pucci. Siamo nel comune di Terre Roveresche, più precisamente a Orciano. Dietro di me la scuola media Giacomo Leopardi. Qui nella giornata di domenica si sono registrati degli atti vandalici. Il plesso, che ospita anche gli allunni di Mondavio, è stato preso di mira dai vandali, che muniti di pennelli e vernice trovati all'interno dello stabile, hanno imbrattato i muri appena ritinteggiati, visto che l'immobile è in fase di ristrutturazione e completamento. Siamo qua in questa scuola che stiamo ristrutturando, che abbia avuto delle lunghe vicissitudini, e oltre ai tanti problemi che abbiamo avuto, riguardo a tante vite che abbiamo incontrato, diciamo dei buon temponi, hanno avuto questa alzata di ingegno, questa bravata, chiaramente è inqualificabile che sia io che il mio collega di Mondavio, Mirko Zenovi, condanniamo senza se e senza ma, in cui ecco appunto hanno imbrattato i muri già pronti, con delle scritte di questo genere, ma chiaramente anche peggiori. Bestemmie, simboli, disegni di poco gusto e frasi senza senso sono apparse sui muri di tutti i piani del plesso scolastico, aule comprese. Un gesto che rappresenta uno sfregio non solo per la struttura, ma per l'intero territorio, si legge in una nota rilasciata dai due comuni. Proprio quando ci si stava avvicinando all'ottimazione dell'opera, dei vandali hanno voluto danneggiare e offendere il luogo simbolo della socialità, della coesione e del sapere, causando danni economici, tanto lo sdegno sui social dei cittadini e delle famiglie. Sull'accaduto, ora indagano i carabinieri di Terre Roveresche per dare e trovare dei nomi a chi ha compiuto questo gesto inqualificabile. Speriamo che gli autori di questa bravata, chiamiamola così, vengano in qualche modo rintracciati, perché sarebbe opportuno che veramente, per una volta, chi sbaglia veramente paghi, perché qui, oltre alle scritte eccetera, abbiamo chiaramente imbrattato e danneggiato un bel pubblico, che non è né mio, né del collega di Mondale, ma di tutte le comunità. E soprattutto è ancora più inqualificabile questo gesto, perché? Perché viene fatto proprio all'interno di una scuola, che dovrebbe educare al meglio i nostri figli. E adesso la pagina della sanità. Da oggi lo sappiamo anche la provincia di Pesero Urbino è in zona rossa. C'è stato un aumento di ricoveri di contagi che comporterà anche la sospensione di alcune attività negli ospedali della nostra regione. Nelle marche la vaccinazione prosegue a ritmi serrati. che permettono alla regione di rimanere in testa per la copertura. D'altra parte però aumentano i positivi al coronavirus e i ricoveri negli ospedali. Un fattore è questo che ha comportato la sospensione di alcune attività programmate per poter adibire medici, anestesisti e infermieri alle terapie intensive e semi-intensive. Lo ha spiegato con un post pubblicato su Facebook l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che ha elencato i dati alquanto preoccupanti. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, fa sapere l'assessore, ha superato da giorni la soglia critica del 30%, come pure l'occupazione dei posti in area medica, che dovrebbe essere al 40%, e invece supera il 50%. Sul fronte delle vaccinazioni è rilevante l'impegno di tutto il personale sanitario, dei volontari e della protezione civile. Le marche infatti figurano tra le regioni più produttive nella somministrazione e abbiamo una potenza di inoculazione, prosegue Saltamartini, che ancora non può essere sfruttata per mancanza di vaccini. In questi giorni però è aumentato il numero delle persone più fragili vaccinate negli ospedali, dializzati, trapiantati o in attesa di trapianto. Si tratta di oltre 117.000 persone, mentre il target complessivo di coloro che hanno patologie, ma devono ricevere il siero, è di oltre 271.000. Questo significa che se nel mese di marzo è previsto una fornitura di 101.000 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, si dovrà attendere aprile e maggio per vaccinare questa ampia fascia della popolazione fragile. La provvista di marzo coprirà una parte delle persone con più di 80 anni, sono 133.000, e una parte degli estremamente vulnerabili. Raccontare i fatti e dire la verità serve per essere consapevoli del periodo che stiamo vivendo, ha proseguito l'assessore, che ha rinnovato la richiesta al governo di avviare al più presto investimenti per la produzione dei farmaci, tra cui gli anticorpi monoclonali in Italia. Ad intervenire sul tema sanitario oggi è stato anche il vicepresidente della regione, Mirko Carloni, che esattamente un anno fa, il 10 marzo, era al pronto soccorso per una febbre leggera e tosse secca. Da lì a poco avrebbe scoperto di avere il Covid-19, lo ha ricordato oggi sui social network. Ho visto in quelle stanze quanta gente ha patito questa malattia più di me lasciandoci la pelle, ha scritto in un post. Oggi inizia la prova più dura perché si ritorna alla zona rossa. Mai pensavo di riviverla. La differenza da allora è che i nostri ospedali stanno funzionando e tra poche settimane arriveranno molte dosi di vaccino e la regione Marche sarà pronta tramite i medici di famiglia, la rete sanitaria e le associazioni private a fare la più grande operazione di vaccinazione della storia moderna. Quello che possiamo fare, ha proseguito, è tenere gli ospedali funzionanti per chi sta male e avere adeguatezza di cure domiciliari anche con i farmaci che un anno fa purtroppo non c'erano. Se invece delle primule fossero arrivati i vaccini sarebbe stato meglio, ha commentato Carloni. Andiamo avanti e combattiamo questa ultima sfida. Intanto, il governatore Francesco Acquaroli spera di poter annunciare buone notizie nel fine settimana. La regione sta monitorando giorno per giorno l'andamento della curva epidemiologica visto l'aumento di contagi legato alla variante inglese. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un alto numero di casi, 881 positivi al virus, di cui 358 in provincia di Ancona, seguita da Macerati e da Pesaro Urbino. Nei giorni scorsi, infine, c'è stato un forte aumento in alcuni territori, ma non su Ascoli, dove è stata riscontrata al contrario una decrescita. Oggi, ricorda Acquaroli, abbiamo 4 province su 5 in zona rossa e credo che potremo essere confermati in zona arancione anche la prossima settimana. E sempre nelle Marche, nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone con coronavirus, tra le quali 4 di età compresa, tra i 55 e i 60 anni. Tra le vittime c'è anche una pesarese di 72 anni. Inoltre, nell'ultima giornata è stata registrata un'impennata di ricoveri più 26 rispetto a ieri, la maggior parte dei quali nei reparti non intensivi. In lieve aumento i pazienti in terapia intensiva, che ad oggi sono 107, e il leggero calo quelli in semi-intensiva, che sono 188. E sempre in tema di vaccini, domani, giovedì 11 marzo, alle ore 17, in streaming, sui canali Facebook e YouTube del Comune di Fano e Fano Cammina, interverranno Marco Monagli e Augusto Oliverani. I due dottori dell'Asura e Revasta 1 parleranno delle fasi del programma ministeriale vaccinale, che prevede la chiamata graduale della popolazione alla vaccinazione anti-Covid, nonché dei vaccini attualmente disponibili sul mercato e dei centri di somministrazione previsti nella provincia pesarese. Introduce e modera all'incontro l'assessore Sara Cucchiarini. E adesso gli effetti del Covid sulle vendite al dettaglio, i saldi non hanno aiutato i piccoli negozi che da oggi hanno dovuto chiudere le saracinesche. Per Confcommercio e Federalberghi servono ristori adeguati, ma anche la proroga delle moratorie concesse sui mutui e i finanziamenti. Il 2021, all'anno della ripartenza, è cominciato molto male, lo afferma la presidente della Confcommercio Fano Barbara Marcolini, sulla base dei dati analizzati dall'ufficio studi dell'associazione di categoria. Nonostante i saldi, l'andamento delle vendite ha registrato un calo del 41,1% nel mese di gennaio e del 23,3% a febbraio, senza lasciare spazi a segnali di recupero rispetto alle enormi perdite registrate lo scorso anno. Le restrizioni alle attività produttive e alla mobilità hanno fortemente condizionato la domanda. Infatti, l'andamento negativo delle vendite è causato principalmente dai beni non alimentari. Il settore della moda è in ginocchio e piccoli negozi sono in difficoltà mentre segna una crescita importante il commercio elettronico. Noi chiediamo come Confcommercio dei ristori adeguati, ristori importanti che dalla bossa del decreto abbiamo letto che verranno praticamente superati i codici a teco ma questo non basta perché il tetto non deve essere così rigido rispetto alle diverse annualità ma soprattutto deve tenere conto anche delle spese fisse quindi degli affitti delle bollette del personale oltretutto c'è una data importante che mette in allarme tutte le aziende ad aprile esattamente già dal 5 di aprile scadranno tutte le moratorie per quanto riguarda i mutui e i finanziamenti se non verranno prorogate metteranno in crisi le aziende infatti spiega la presidente in base a una normativa europea le aziende insolventi anche per soli 100 euro verranno segnalate alla centrale rischi precludendo ogni altro tipo di finanziamento molte aziende così rischieranno di chiudere per sempre i battenti a lanciare l'allarme anche federalberghi di Pesero Urbino la scorsa settimana l'Istat ha certificato che nel 2020 il fatturato dei servizi ricettivi ha subito un crollo di quasi il 55% ci saremmo aspettati ha detto Luciano Cecchini che il decreto sostegni tenesse conto di questa tragedia che mette a rischio la sopravvivenza di più di 30.000 imprese e 350.000 lavoratori ma purtroppo non troviamo conferma nelle bozze che stanno circolando si alberghi aperti ci sono naturalmente in questo momento si lavora solo con quel po' di commerciale che abbiamo nelle nostre zone che stanno facendo dei lavori dei cantieri ma non vediamo la luce del tunnel perché in fin dei conti in questo momento non abbiamo pronotazioni la gente ha paura di pronotare perché quello che sentono in giro ancora questa pandemia sembra che non vuol finire io mi auguro che nel mese di aprile si trovi questa soluzione di vaccinare tutti e avremo sicuramente un boom di presenze perché le nostre strutture sono tutte alquanto sicure l'abbiamo visto anche l'anno scorso che non abbiamo avuto nessun caso negli alberghi Cambiamo argomento il consigliere regionale Giacomo Rossi di Civi Cimar che ha scritto ad ANAS per rivedere il limite dei 70 km orari messo nel tratto della superstrada E78 all'altezza di Lucrezia Calcinelli mi hanno confermato fa sapere il consigliere che questo limite è stato posto per la sicurezza della circolazione e a causa del non rispetto della segnaletica stradale ho chiesto ad ANAS prosegue Rossi come sono stati individuati gli sforamenti del precedente limite di velocità e se quello attuale non sia eccessivo in quel tratto auspicando che venga aumentato perlomeno a 90 km orari e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco vi riproponiamo un video che ha riscosso un grande successo realizzato dallo studio del Bianco e dedicato al quartiere Sallazzaro di Fano grazie e buona serata a tutti voi grazie a tutti